Il primo incontro del Museo della Fotografia si è incentrato sull'analisi che Antonella Russo ha proposto della storia della fotografia, analizzandola in base alle minuziose ricerche d'archivio da lei realizzate, in cui ha proposto temi poco analizzati, poco dibattuti, quali l'associazionismo fotografico, il collezionismo, il paparazzismo, la fotografia umanitaria e la metodologia della ricerca storica, avanzando ipotesi sulle cause del clamoroso ritardo nell'affermazione della cultura fotografica in Italia. La Russo ha fatto riferimento a dei lavori molto interessanti, che sono stati i lavori pionieristici all'inizio della fotografia tra 8 e 900, parlando della differenza tra i libri fotografici e i fotolibri. È stato un primo incontro molto interessante, l'anno accademico è iniziato dunque molto bene. Le novità di quest'anno saranno molti workshop molto interessanti, con diversi autori e specialisti del settore. Grazie per la visione!